Ben trovati in studio, ci occupiamo dell'abolizione delle province, giornata decisiva oggi all'Ars per l'approvazione del provvedimento. All'interno della maggioranza alcuni deputati di PD e Udc potrebbero votare contro insieme al centro-destra, dunque potrebbe esserci un nulla di fatto. Vediamo. Giorno della verità per l'abolizione delle province in Sicilia. Oggi l'Assemblea regionale discuterà del decreto di legge varato dalla Giunta. I 90 deputati dovranno decidere in aula quale sarà il destino degli enti. Il governatore Rosario Crogetta in queste settimane si è espresso per la nascita dei liberi consorsi tra i comuni e in attesa per il commissariamento delle province regionali con i suoi uomini di fiducia. Ma il percorso non sarà tanto facile e scontato. Intanto Crogetta dovrà stare attento al fuoco amico. All'interno di PD e Udc una parte dei deputati non vede di buon occhio il taglionetto drastico degli enti provinciali. Ma a difesa di Crogetta arriva il segretario regionale dell'Udc d'Alia. Chi non voterà in aula per l'abolizione delle province sarà fuori dal partito. Ma Crogetta punta anche sul sostegno dei grillini, i quali però sono contrari alla nomina dei commissari da parte del governatore, ma propongono che l'indicazione arrivi dai prefetti. Il centro-destra voterà contro l'abolizione. Se non ci saranno i numeri, il dibattito sulle province potrebbe concludersi in un nulla di fatto. Tutto rimarrà così com'è e si andrà a votare con la vecchia legge. Il test in discussione infatti prevede che la riforma per essere valida dalle prossime elezioni necessita dell'approvazione del DDL entro la fine di marzo. I tempi stringono e dunque attenzione ai franchi tiratori. Adesso la cronaca. Curioso episodio a Scoglitti. Un tunisino di 28 anni ha picchiato e il fratello di 43 lo ha derubato e è stato arrestato dai carabinieri. Picchi e Derubel, fratello arrestato. Nel pomeriggio di ieri a Scoglitti, i carabinieri della locale stazione, al termine di una intensa e tempestiva attività d'indagine, hanno individuato e tratto in arresto Chemili Neym e Din Benelarussi, tunisino di 29 anni, braccente agricolo, per i reati di rapina e lesioni personali. Il giovane extracomunitario è ritenuto responsabile di avere colpito con un pugno al volto il fratello di 43 anni, anche egli braccente agricolo, incensurato, sottraendogli la somma contante di 50 euro, custodita nel portafoglio, procurandogli anche un trauma contusivo al volto, giudicato guaribile in tre giorni dai sanitari del PTE di Scoglitti. L'atto criminoso, verosimilmente, è ricollegabile alla presentazione di una querela da parte della vittima nei confronti del fratello per minacce subite. Al termine delle formalità di rito, l'arrestato è stato posto agli arresti domiciliari, presso la propria abitazione, a disposizione dell'autorità giudiziaria Iblea. E nella mattinata di oggi, Chemiri, tratto in arresto, lo avete sentito prima ieri, per rapina nei confronti del fratello, è stato scarcerato, così come disposto dall'autorità giudiziaria Iblea. Resta in carcere Gianluca Zaffarana, l'evaso dal carcere di Modica la scorsa settimana, a deciderlo il GIP. Arresto convalidato per Gianluca Zaffarana, il trentenne ciclitano, evaso la scorsa settimana dal carcere di Modica. Ieri si è svolto il primo interrogatorio davanti al GIP del Tribunale della Contea, Elio Manenti. Zaffarana, lo ricordiamo, era in carcere per scontare un cumulo di pene per una serie di furti commessi, quando mercoledì scorso, durante l'ora d'aria, era riuscito a darsi alla fuga. Le forze dell'ordine sono riuscite a scovarlo solo giovedì sera in una casa disabitata di Cava Daliga. L'interrogatorio si è svolto al carcere di Ragusa, dove Zaffarana era stato portato una volta ritrovato. Il GIP ha confermato la custodia cautelare in carcere, così come richiesto dal PM. Un uomo è morto mentre era alla guida dell'auto. È successo a Vittoria e via Como ieri pomeriggio, a perdere la vita Mario Salemi, 55enne, architetto di Acate. Il professionista era alla guida della sua auto, una Fiat Punto, che all'improvviso è andata a finire contro un muro. Salemi probabilmente è stato colto da un malore improvviso. Inutili i soccorsi che sono arrivati sul posto. Adesso ci occupiamo delle muosse di una vicenda che ha delle paradossale. La presidenza della regione siciliana si è costituita dinanzi al TAR contro le autorizzazioni rilasciate dall'assessorato regionale all'ambiente. Dunque regione contro se stessa a denunciare l'episodio è legambiente. Vicenda paradossale sulle muosse di Niscemi e a portarla alla ribalta è stata la legambiente Sicilia. Al TAR di Palermo è pendente il ricorso numero 1864 del 2011 proposto dal comune di Niscemi per chiedere l'annullamento delle autorizzazioni ritenute illegittime rilasciate dalla regione nel giugno del 2011 per la costruzione del muosse. L'Egambiente si è costituita con i propri legali a supporto delle richieste del comune e a difesa della riserva naturale su Greta di Niscemi le cui norme di tutela non consentono la realizzazione dell'opera. Lo scorso 27 febbraio la presidenza della regione siciliana si è costituita dinanzi al TAR, scrive l'associazione ambientalista, è quindi contro i provvedimenti dell'assessorato regionale territorio ambiente dell'ARPA Sicilia, difesi in udienza dall'avvocatura dello Stato insieme al Ministero della Difesa. Roba da non crederci, la regione si costituisce contro se stessa, denuncia Angelo Di Marca, responsabile regionale della conservazione natura di legambiente Sicilia. Basterebbe revocare o annullare i suddetti provvedimenti e il ricorso decadrebbe. La regione chiede al TAR di dichiarare illegittimi provvedimenti che potrebbero essere revocati dalla dirigenza regionale che li ha emessi o annullati dal Presidente della regione ai sensi della legge regionale 10 del 2000. Per l'Egambiente, al di là degli annunci, si stanno precostituendo tutte le condizioni per ingarbugliare sul piano giuridico-amministrativo una vicenda che potrebbe essere chiarita e risolta definitivamente con l'immediata revoca delle autorizzazioni regionali. E oggi, 19 marzo, è la festa del papà, questa data che coincide in Italia con la festa di San Giuseppe, appunto, dedicata alla paternità. Vediamo. Oggi, 19 marzo, è la festa del papà, una ricorrenza dedicata a chi, talvolta con mano rigida, talvolta con tante carezze, spesso con entrambe le cose, ed è sempre considerato il capo famiglia per eccellenza. Se infatti la mamma è l'angelo del focolare domestico, il papà ne è certamente il protettore indiscusso. La festa del papà è una festività civile, celebrata in tutto il mondo, anche se in date diverse. È una festa che nasce nei primi decenni del XX secolo. La prima volta che fu festeggiata sembra essere stato il 5 luglio del 1908, a Fairmont, in West Virginia, presso la chiesa metodista locale, mentre fu una certa signora Dodd la prima persona a richiedere l'ufficializzazione della festa in onore del suo papà. Ma ritornando al nostro paese, la festa del papà è associata alla celebrazione religiosa di San Giuseppe, esemplare del padre e del marito devoto, ma anche protettore nella tradizione popolare degli orfani, delle giovani nubili e dei più sfortunati. Proprio per questo, in alcune parti della Sicilia, il 19 marzo è tradizione invitare i poveri a pranzo. Non resta allora che dirvi tanti auguri, cari papà. Ed è tutto per questa edizione, continuate a seguirci sul nostro sito all'indirizzo free tv online 1.it e sulla nostra pagina facebook free tv comiso. Grazie per essere stati con noi, a domani. Grazie a tutti.